Per vedere questa ragazza in questione è la cantante Elodie. Elodie che si è presentata a Sanremo 2021 dimenticandosi la bianchiera intima e quindi è stata censurata a Sanremo giustamente. Nel senso che non è passato in osservata il fotogramma alla Rai che ha censurato l'immagine, cioè non l'ha ripetuta nei telegiornali. Una svista... Il Paragone nasce spontaneo con Belen che fece la stessa cosa comunque dai, ha fatto parlare di sé, ha anche rimbalzato lei stessa l'immagine su Instagram però questa cosa non è piaciuta alla Rai che ha censurato l'immagine. Adesso giustamente e ingiustamente non lo so, comunque niente hanno bloccato le immagini di Elodie, quindi Elodie censurata sul palco di Sanremo. Questo è quanto, un'anticipazione di un famoso giornale che si parla italiano. Farò milioni di visualizzazioni come al solito. Ciao, al prossimo video!